Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Può una donna che è stata colpita da tutti i dolori che la vita può riservare riprovare a ricominciare a vivere grazie a un lavoro che la maggior parte della gente rifiuterebbe senza pensarci due volte, guardiana di un cimitero? La nostra Violette è un personaggio che vi rimarrà scolpito nella mente e nel cuore. Violette è la protagonista di Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perrin, un grande caso editoriale, 300.000 copie vendute soltanto nella traduzione italiana. Violette come dicevo è una donna che ha ricevuto tante randellate dalla vita sin dall'inizio, sin dall'inizio. Ho cominciato malissimo, sono nata con un parto inanonimato nelle Ardenne nel nord del dipartimento. Il giorno in cui sono venuta al mondo non ho pianto. Così mi hanno appoggiato in un angolo come un pacco da 2 chili e 670 grammi senza francobollo e senza destinatario in attesa di riempire i documenti in cui venivo dichiarata partita prima di essere arrivata, nata morta, bambina senza vita e senza cognome. L'ostetrica doveva trovarmi in fretta un nome da scrivere sul modulo e ha scelto Violette. Immagino che fossi Viola dalla testa ai piedi. Quando ho cambiato colore, quando sono passata dal Viola al Rosa e si è trovata a dover compilare un atto di nascita, ha mantenuto lo stesso nome. E così via dalla clinica, le famiglie affidatarie, le case famiglie, altre famiglie affidatarie che la tengono per pochi giorni e la rispediscono al mittente, bambina difficile, Violette. Violette si trova ad affrontare i problemi di una vita appunto cominciata male. Piccoli lavoretti, un ragazzo per di giorno, Filippo, che troppo presto diventerà suo marito, suoceri che la detestano neanche troppo cordialmente, per fortuna una figlia che diventerà la sua unica ragione di vita. Prima casellante, un passaggio a livello, insomma, nella campagna sperduta francese, poi guardiana di un cimitero, di dolore, indolore. Ed è proprio lì che paradossalmente Violette ritrova la voglia di vivere dopo l'ultima grande sventura che le si abbatte come un fulmine al ciel sereno sulla testa. Questo libro è un inno alla resilienza e paradossalmente un inno alla gioia. Violette è la nostra eroina greca, un'eroina greca dotata di grande senso e l'umorismo che ci fa passare in pochi istanti dal pianto al riso. È un regalo che vi consiglio di farvi, fatevi questo regalo. Condividetelo con i vostri alunni, con tanti nostri alunni adolescenti che a volte non riescono a trovare la forza per superare i loro drammi. Bene, grazie e allora alla prossima. Mi raccomando venite come sempre a trovarci sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie a tutti.